Siamo a 31 secondi di 13 minuti e 31 secondi Mancano 13 minuti Vediamolo però per lo meno Va bene andiamo Ma chi dice queste putte? Posso chiamare Marco adesso in live? Perché entrambi lavorano con i tiktoker Ma andiamo avanti Marco adesso in live Una cosa manageriale Non andiamo avanti Non andiamo avanti Non mi veniva Non andiamo avanti E sta a te caldo Qualcuno ha il ciclo No Giollo è che lo fai sempre Parli quando iniziano i video Basta Ma io parlo quando cazzo voglio Tu dubbi esattamente come fai te No 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 Io se faccio play sto zitto C'è ovvio C'è un'altra fonte audio attiva Non lo farei mai Però spesso iniziano i video Ma è lei che fa play Se devo dire una cosa Se inizia qualcosa E vabbè Qualcuno ha il ciclo Andiamo avanti Ho il ciclo Ma chi che dice questa